Mentre nel nord e nel centro Italia, dati sole 24 ore, volano le aperture di nuove attività, Arezzo purtroppo è ferma al palo con un secco 0%. A segnare il record nazionale di crescita è la Toscana Grosseto, che secondo i dati di Credit Safe, si è dimostrata nel 2015 la provincia con la maggior propensione all'imprenditoria. I numeri parlano chiaro, 22% di aumento. Un altro caso lo fa segnare Siena, con la sua crescita che si attesta all'11%. In questo caso le aperture hanno riguardato più il settore turistico, con bar 44 aperture, affittacamere e bed and breakfast altre 44 aperture e ristoranti ben 72 aperture. Segno positivo anche per Pistoia, più 12%, Massa più 7%, Lucca più 6%, Prato e Livorno più 5%, Firenze più 2%. Arezzo purtroppo è ferma sullo 0%, la performance peggiore in Toscana è quella di Pisa che fa segnare un meno 6%. Grazie. Grazie.